buonasera ho cambiato postazione perché perché oggi pomeriggio ho fatto la diretta live sul programma che è presente e conduce scusate la mia collega giovanna lucido che si intitola i segreti delle tombe e siccome mi sono beccata un sacco di complimenti che sono un'enciclopedia vivente che sono qua che sono là ho detto forse è merito del salotto invece che della stanzetta di lavoro così ho deciso di cambiare stanza col cellulare messo per così non so da che parte guardare per far venire la telecamera perché se mi guardo io sembra che sto guardando un'altra parte seguendo la telecamera non vedo come che faccia sto facendo vabbè fa le stesse allora e appunto siccome mi avevano dato sta botta di acculturatissima ho deciso di rovinarmi la reputazione parlando di un argomento che fa parte tra virgolette della storia del paranormale perché tra virgolette perché voglio portare dei paragoni sui tre vangeli apocrifi di enoc questo perché perché oggi mi sono capitato io come al solito seguo sempre i consigli dell'universo per parlare nei vari video e mi sono capitati davanti appunto una serie di post in vari gruppi dove tiravano fuori l'alfabeto enocchiano allora da lì subito volevo parlare appunto solo dell'alfabeto enocchiano in realtà poi mi è venuto il flash mi sono ricordata improvvisamente tutta la storia del appunto di enoc tutta la storia di dei grigori e via dicendo e ho fatto due paragoni mentali quindi da lì ho deciso che stasera parlavo di storia del paranormale e parlavo proprio di enoc e noc da qui deriva proprio il nome poi anche dell'alfabeto enocchiano intanto chi è enoc e a parte forse qualche cristiano e qualche ebreo veramente ferrato in materia penso che nessun comune mortale si ricordi o abbia mai saputo chi è enoc e noc secondo appunto però questi vangeli apocrifi quindi non considerati dalla chiesa cattolica e noc fu il padre di matusalemme e quindi tendenzialmente il nonno di noè fin lì giusto perché noè lo conoscete meglio per la questione del di lui matusalemme lo conoscete bene perché narra leggenda che si è vissuto 999 anni enoc che era il nonno di noè è un po' meno conosciuto la leggenda la storia di questi vangeli apocrifi racconta delle guerre e delle ribellioni della razza angelica e noc racconta che gli angeli non erano tutti buoni tutti bravi tutti a servizio di dio tutti tra l'allatri lì come si usa un po' pensare per mero opportunismo moderno oggi in realtà secondo le scritture di enoc negli angeli c'erano quelli prettamente seguaci del dio in questo caso perché la leggenda comunque nasce da una diramazione della religione ebraica che considera il dio yahweh per cui diciamo che erano i seguaci di dio e erano c'erano quelli fissati e prettamente servizievoli verso il loro capo i quattro più conosciuti e più importanti erano michele uriele raffaele e ezechiele non me lo ricordo mai il quarto allora questi qui erano i suoi quattro arcangeli più importanti perché più fedeli ma sotto nelle varie tribù angeliche chiamiamole così ce n'erano moltissimi alti le tribù angeliche erano divise in molteplici razze o nomi di tribù che dir si voglia c'erano i cherubini c'erano i troni c'erano i grigori i grigori non li nomina mai nessuno perché non li nomina mai nessuno perché furono quelli che fecero incavolare il dio ebraico come una biscia in che modo la razza dei grigori o stirpe dei grigori o tribù dei grigori chiamiamola come vogliamo aveva il compito secondo sempre la mitologia ebraica di fare la guardia alle donne terrestri alle donne umane perché non cadessero nella stessa tentazione nella quale era caduta anticipatamente prima eva invece successe che alcuni di loro si infogliarono proprio delle donne terrestri e con esse fecero dei figli questi figli vengono chiamati sul libro di eno sui libri di enoch che sono tre o appunto vangeli apocrifi di enoch che dire si voglia nephilim i nephilim vengono descritti come esseri giganti con fattezze particolari la religiosità li definisce mostruosi ma in realtà penso che ammessero un concesso che siano esistiti degli esseri che siano stati poi identificati con il nome di nephilim probabilmente erano appunto dei giganti probabilmente le muriani e vi dicendo questo è il mio parere personale beh andiamo avanti con la storia di enoch enoch era un illuminato enoch comprendeva e capiva ciò che stava raccontando e scrivendo nel suo nei suoi libri nel suo primo vangelo all'inizio perché gli veniva in qualche modo dettato da una forza superiore che lui definisce come il dio ebraico l'alfabeto enochiano si attribuisce a lui e da lui prende il nome proprio perché sembrerebbe ma non abbiamo certezza in merito che sia un tipo di alfabeto un tipo di lingua di linguaggio che lui abbia imparato ed appreso in un suo viaggio all'interno dei dieci cieli che sarebbero dieci livelli del paradiso secondo il suo ramo dell'ebraismo ora le dieci dimensioni sono conosciute anche in occultismo e in spiritismo anche se non vengono definite paradisi e non c'è un dio preposto che comanda ma una serie di entità elevate ma a prescindere da quello all'epoca enoch considerò l'entità elevata mettiamola così che gli stava raccontando questa cosa e che comunque aveva sotto al suo comando gli arcangeli principali quelli che noi conosciamo come michele zecchiele uriele e raffaele lo prende come il dio supremo e una prima volta enoch viene preso da due dei quattro arcangeli sempre secondo il suo racconto ovviamente e viene portato appunto sui di ai dieci cieli lì viene raccontata tutta questa storia dopo la nascita dei nefilim questo pseudo comandante che lui definiva un dio supremo era incavolato come una iena con i grigori perché invece di mantenere le donne sane e serie se le hanno portate a letto loro e quindi decide di farli punire li fa portare in una sorta di cielo di quei dieci non è definito quale che enoch una volta che riesce a visitarlo si rende conto essere una sorta di inferno punitivo esclusivo per angeli vabbè poi siccome quello che lui definiva il dio supremo il dio unico e monoteico era ancora incavolato con una biscia per tutta la situazione decide di fare pulizia acchiappa i suoi quattro scagnozzi quindi appunto michele zecchiele uriele e raffaele e gli da degli incarichi michele è il più battagliero il più convinto nella lotta e nell'ideologia del dio che lo comanda il più forte a livello fisico e quello più propenso alla battaglia quindi viene mandato proprio a combattere e a recuperare i grigori che sono si sono ribellati al suo capo uriele viene mandato sulla terra a spiegare ai parenti di enoch quindi a matusalemme e principalmente al figlio noè quindi nipote di enoch che appunto incazzato con una iena avrebbe mandato il diluvio e quindi gli dice di andare di cercare di recuperare tutte le persone che avevano intenzione di redimersi perché secondo enoch non c'entravano un tubero le coppiette di animali ci sono due coccodrilli e due rango tango due piccoli serpenti e l'aquila reale gatto il topo l'elefante non manca più nessuno e secondo il libro di enoch erano le persone che dovevano salire sulla famosa arca ma quali persone le persone che in qualche modo si erano redente e si erano pentite degli sbagli che aveva fatto e per fare questo uriele o uriel che dir si voglia in carica proprio enoch al suo ritorno poi vi spiegherò come e poi in seguito lasciando il compito a matusalemme di creare il primo altare in onore di un dio di questo dio e in carica di trovare le persone che di fronte a questo altare si sarebbero pentite e redente quelle persone sarebbero state salve dal diluvio ezechiele non mi ricordo minimamente dove viene mandato ma sicuramente è stato mandato in qualche posto che non era di rileva di estrema importanza raffaele ha il compito più infimo e stronzo secondo me viene mandato da dio che voglio dire io però un dio che dovrebbe essere buono caritatevole e non dovrebbe accettare la menzogna tecnicamente oltre al fatto di essere anche onnipotente quindi in grado di fare qualunque cosa manda raffaele a mettere zizzania tra i nefilim di modo che questi gigantoni mezzi tonti figli di angeli incarogniti e donne umane si incazzassero tra di loro e si ammazzassero di legnate fino a sterminarsi gli uni con gli altri praticamente lo manda a fare il ruffiano e raffaele ben felice comincia ad andare a destra a sinistra a falle il ruffiano sempre il secondo e noc ovviamente secondo questi vangeli apocrifi nel frattempo e noc è ancora però nei cieli sta ancora imparando e per imparare alcuni due arcangeli minori che si chiamano marioc e arioc lo portano a passeggio gli fanno da guida turistica appunto per i vari piani un po' alla dante passeggiano per i piani e noc vede un po' di tutto ma non ciò che si aspettava lui per un per paradiso si aspettava prati fiumi una sorta di eden animelle felici che saltellavano da una nuvoletta all'altra e via dicendo in realtà ciò che vede è una serie di entità che lui non chiama entità ma chiama esseri divini che hanno dei compiti specifici per l'universo intero c'è quello che deve seguire la rotazione della luna quello che deve seguire il movimento di una stella quello che deve seguire il movimento dell'altra stella quelli terreni terrestri no terreni scusate che devono seguire il movimento dell'acqua il movimento delle piogge il movimento delle nuvi il movimento dei fuochi sotterranei dei vulcani della crescita delle piante di qualsiasi movimento si verifichi nell'universo e subito non riesce neanche a comprendere probabilmente non ci è riuscito manco dopo perché questa sua spiegazione era talmente mescolata che poi è stata rielaborata e compresa in tempi relativamente più moderni quindi poi all'epoca diciamo grosso modo intorno al 1500 1600 all'epoca della regina elisabetta prima d'inghilterra come tipo di epoca perché lui descrive solo ciò che vede ma non ha la cognizione reale di ciò che sta vedendo seppur descrivendola talmente bene in tempi più moderni si è compreso cosa in realtà lui neanche comprendeva e voleva descrivere poi sempre in questi dieci cieli dieci paradisi secondo la sua spiegazione vede anche una sorta di limbo un piano che è un limbo è un limbo strano è un limbo per angeli quindi per le entità di razza angelica questo limbo è abitato da quei grigori che non sapevano da che parte stai perché erano amici amici con quelli che poi sono stati rinchiusi e presi allegnate affrustate abbruciate attorturati da altri angeli perché enoc non parla di demoni o di inferno tutto ciò avviene nel bene e nel male nei dieci cieli che già lì io paragono tanto proprio alle dimensioni ultraterrene cioè la dimensione quarta che è quella delle fonti dimensione quinta che è quella di quelli che noi chiamiamo angeli e demoni ma che in realtà sono delle razze delle stirpi sesto cielo che sono sesto cielo sesta dimensione che sono degli elevati e via dicendo insomma in questo limbo ci sono quelli che hanno un piede nella fossa e l'altro sulla buccia di banana perché non sanno che pesce hanno a pigliare erano amici con quelli là ma non se la sono sentita di seguirli perché erano un pochettino cacarelle sotto però non vogliono dare torto neanche al gran capo per paura del braso tanto e quindi per ora stanno lì nel limbo stanno lì e passando di lì enoc da quello che lui racconta parrebbe che alcuni di questi grigori appunto che vivevano nel limbo gli chiedono a un certo punto un consiglio e gli chiedono se avrebbero dovuto seguire l'istinto e quindi andare con gli amici dare ragione agli amici che erano stati ribelli o se seguire il comandante in capo e non farlo incazzare ulteriormente enoc o enoc che dir si voglia essendo particolarmente devoto al boss gli dice praticamente scusate un attimo ma quei quattro sono finiti anche agli arresti domiciliari so quanto vi convenga farvi buttare dietro le sbarre anche là gli stanno facendo un braso così vi conviene andare dalla parte del più forte no perché se non puoi vincerli unisciti a loro e poi va avanti per i suoi passeggi appunto finisce perché ancora non l'aveva visto io l'ho anticipato ma non l'aveva ancora visto finisce proprio nel cielo infernale quindi nell'inferno per angeli creato nel paradiso del boss dove appunto ci sono altri angeli che legnano di mazzuolate quelli colpevoli tra questi si trovano appunto quelli che oggi conosciamo con la terminologia di caduti quindi si troverebbe secondo enoc lucifero samael azazel e via dicendo che succede anche lì mentre enoc passeggia scortato da marioc e arioc viene fermato anche da questi carcerati che gli chiedono di mettere una buona parola e di intercedere per loro che sono stufi di pia mazzolate e enoc ci prova perché è mosso da compassione e va dal boss gli spiega la situazione e cerca di intercedere per loro ma il boss è rimovibile e gli dice vedi annattene pure te perché o stai bravo e segui le regole o ci finisci pure tu e al chieno ha detto mi scusi ho sbagliato numero e finisce comunque quando arriva a comprendere e a conoscere tutta la situazione dei dieci cieli nei quali poi alla fine lo incrocia davvero anche il paradì l'ex paradiso terrestre che ormai era stato trasportato nei cieli peraltro nel paradiso terrestre nota da una parte il famoso albero delle mele che se gli tocchi la mela te fa un raso oggi ce l'ho coi brasi e ma è vero non gli tocca le mele e e dall'altra vede un albero un albero che butta olio un olio dorato che non si sa cosa sia però se noi andiamo indietro nel tempo evitiamo le religioni monoteiste ma ci facciamo una notata fino anche solo l'antica grecia che è quella relativamente più moderna politeista pre cristianesimo pre ebraismo l'olio dorato altri non era per i greci che l'ambrosia il nettare di vino degli dei che gli permetteva di essere eterni e di essere dei l'unico cibo che gli dei mangiavano ha la stessa caratteristica esce da un albero e oliosa e dorata tra l'altro e lì identica non ci hanno manco cambiato il colore a sto giro insomma vede tutta sta roba qua l'albero non è che sa tanto che cosa sia infatti lo descrive solo come un albero che butta olio dorato la caga lì la descrizione e finisce lì e va avanti finché all'ultimo cielo dopo che si è fatto un mazzo come una campana a farsi tutta con la passeggiata incontra il boss l'essere supremo che gli dice senti ciccio siccome adesso sei tutto qua io non te posso mica fanno via e quindi ad ora in poi tu diventerai il mio scribacchino personale un pochino come era praticamente nella religione politeista egiziana il dio tot per il dio ra ra il dio del sole il boss il capo e il dio tot un dio minore che doveva fargli da scriba tanto è vero che era il dio protettore proprio degli scriba quindi di quelli che scrivevano e lui assume e noc come appunto uno scriba gli dice motore in poi mi fai da segretario e mi pigli appunti lui però vorrebbe prima di tutto tornare sulla terra un attimo anche solo per dire ciao al figlio vabbè che il figlio poi campava fino a 99 99 anni quando lo rivedeva più al nipote via dicendo e un po perché voleva sistemare cercare di raccontare il più possibile tutto ciò che aveva capito e imparato agli esseri umani di modo da in qualche modo salvarne il più possibile perché lui comunque dentro era umano e questo fantomatico dio gli concede un mese ancora sulla terra allora noc prende praticamente il monopattino elettrico per riuscire ad arrivare in fretta una volta arrivato lancia al volo proprio al figlio mattusalemme i progetti per fare l'altarino e gli spiega che deve fare l'altarino e che deve insegnare alla gente a pentirsi a prostrarsi sull'altarino dopo di che si mette come una biscia a scrivere narra leggenda abbia scritto 362 libri in un mese cioè io mi sentivo fiera di aver pubblicato cinque libri da luglio 2020 arrivare a marzo 2021 quindi agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo in otto mesi ho pubblicato cinque libri e già mi sentivo un alieno questo ne ha fatti 362 in un mese quando senti sconfitto dentro insomma farla breve dopo un mese gli mandano il piccione viaggiatore con su scritto ciccio adesso chiapa le penne di yankee doodle e torna su e lui rassegnato saluta matusa saluta il nipotino noè e riparte per andare su quando arriva su dio lo guarda un attimo il dio suo che descrive nelle sue storie lo guarda un attimo e gli dice com'è che ti chiamavi te enok no enok per un angelo fa schifo e siccome stai qua mo devi diventare un angelo cambiamo nome ti metto metatron così perché è semplice la pronunciare metatron enok non gli piaceva e suppongo che anche gli altri arcangeli prima di imparare a chiamarlo ha voglia ce lo vedo raffaele che magari gli dice nene meme vi è po qua comunque enok si trasforma magicamente o divinamente parlando nell'arcangelo metatron l'arcangelo metatron è infatti una figura adesso a parte gli scherzi estremamente controversa perché la bibbia cristiana e i tomi ebraici antichi non lo nominano più di tanto invece in occultismo è conosciuto come l'angelo del cubo l'angelo del quadrato colui che ha quattro ali e che è la congiunzione tra l'essere umano e l'essere divino che io come occultista non religiosa totalmente atea potrei paragonare appunto a un figlio non in efelim ma a una incarnazione diretta di un'entità elevata quindi di uno che noi oggi chiamiamo angelo o chiamiamo demone in essere umano perché anche loro per necessità loro si incarnano a volte e passano alcune vite terrene per questioni di coltivazioni d'anima personali loro ecco il mio rapporto potrebbe essere quello tra metatron e ciò che io credo oggi poi prima di diventare l'angelo metatron appunto enoc venne battezzato lavato stirato e gli venne pure data da bere appunto una boccetta di olio dorato dell'albero che non si sa che albero fosse e da quello diventa metatron cioè lui ci sta a fare gli escano quattro ali l'occhio centrale e decide che il suo sigillo personale sarà un cubo questo a prescindere poi i nomi vengono anche modificati o cambiati nella storia delle religioni diramate quindi in varie diramazioni ad esempio gli stessi grigori la razza dei grigori la stirpe dei grigori come angeli viene anche chiamata come la stirpe degli irin in altre diramazioni sempre di natura di radice ebraica ma quello poco conta che li chiamiate grigori che li chiamate irin poco ceva è sempre la stessa razza ecco io ho trovato in questi vangeli apocrifi moltissime descrizioni di ciò che io conosco come l'oltre ovvio non c'è questo dio supremo ci sono delle entità elevate che fanno da capo ma non è uno un ettrinio e tra l'alliro eccetera sono entità che devono seguire la situazione cosmica delle energie poi anche il discorso delle fazioni quindi delle due contrapposizioni in guerra c'è anche nella versione che conosco io dell'oltre c'è la la fazione del bilanciamento e la la fazione del caos che sono sempre la stessa razza cioè sono sempre quelli che noi chiamiamo angeli e demoni angeli e demoni e non sono angeli e demoni ma sono angeli demoni angeli demoni cioè tutti mescolati non c'è non è una guerra angeli contro demoni è una guerra destra contro sinistra un po' politica e poi c'è proprio la stirpe dei neutrali di quelli che sono nella via di mezzo proprio come lui spiegava avesse visto il limbo di questi dieci cieli che io li vedo proprio come le dimensioni ultraterrene superiori alla terza la terza la nostra dalla quarta in su fate voi le vostre conclusioni io sforato i 33 minuti ci metterà una vita a caricarsi quindi vi saluto con questa storia oggi sono masochista mi sono andata a ricordare cose che avevo rimosso da quando avevo 17 anni come minimo vi do una buonanotte vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social dove mi trovate vi ricordo che per queste settimane mi trovate ancora anche ospite come nella trasmissione della mia collega giovanna lucido che va in onda anche in diretta streaming sulla sua pagina facebook i segreti delle tombe che trovate anche poi in versione registrata su youtube nel canale di app web radio e anche in diretta sul canale 93 per quanto riguarda la sicilia un po più sotto tre o quattro link delle librerie delle mille librerie che tengono in vendita i miei libri i cinque di cui vi parlavo prima vi do la buonanotte 34 minuti mi viene da piangere ciao